ciao sono lino di gruppo carmeli concessionaria e service ufficiale nissan oggi ho il piacere di presentarvi il nuovo nissan juke scoppiamolo insieme il nuovo juke è una vettura di grande qualità di design e ricca di innovazioni tecnologiche fari full led che aumentano la visibilità notturna di 10 metri cerchi importanti in lega da 16 a 19 pollici la vista laterale evidenzia una fiancata possente con linee tese e scolpite le misure sono aumentate ora è lunga 4 metri e 21 con un passo allungato di 10 centimetri migliorando l'abitabilità interna sia anteriore che posteriore il baule è di nuova conformazione con uno spazio complessivo di ben 422 litri un'ulteriore novità tecnologica senza dubbio la nuova plancia con display da 7 pollici e il sistema multimediale evoluto da 8 pollici e adesso portiamolo in strada ed eccoci qui a bordo del nuovo zuc per l'occasione la versione top di gamma la tecna la comodità la fa da padrone i sedili sono sportivi e molto abolgenti garantendo comfort al guidatore e ai passeggeri i tecnici nissan hanno optato per un motore benzina 1000 cc turbo a 3 cilindri da 117 cavalli leggero ma estremamente reattivo è come se ci fossero tre motori in uno grazie alla possibilità di scegliere tre diverse modalità di guida semplicemente agendo sull'apposito selettore posto vicino al cambio cambio che può essere manuale a sei rapporti o automatico dct doppia frizione a sette rapporti con le leve del cambio al volante per una guida sportiva è molto divertente e non dimentichiamoci la possibilità di avere la tecnologia pro pilot per una guida ancora più sicura e confortevole per la sicurezza giu che si è guadagnata le cinque stelle ai test euron cap di omologazione grazie a una struttura in acciaio ultra resistente un sistema di frenata di emergenza assistita con riconoscimento pedone e ciclista attacchi isofix per i seggiolini dei bambini oltre che il sistema di avviso e intervento di cambio di corsia involontario stanco di prendere le multe sul display un ottimo sistema di rilevamento della segnaletica stradale e ora se ti è piaciuto il video lascia un commento qui sotto o chiamaci allo 030 77 24 011 i nostri consulenti sono a tua disposizione per qualsiasi domanda o curiosità riguardo il nuovo juke ci vediamo in uno dei nostri showroom ti aspetto